Una domanda ai relatori GSK e Prosenza. Volevo chiedere, mio figlio si sta sottoponendo al trial dell'Exxon Skipping del 51 presso il Policlinico Universitario di Messina. Ha iniziato, aveva quasi otto anni e mezzo, è passato un anno e mezzo e credo che continuerà ancora per un altro anno. Ieri ulteriormente è stato ribadito il fatto che non si ha certezza che l'Exxon Skipping possa essere efficace anche per il tessuto cardiaco. Se non ricordo male, al momento del reclutamento c'era stato chiesto che i bambini dovevano prendere solamente degli steroidi e nessun altro farmaco, giustamente. Mi chiedo, è passato già un anno e mezzo, sicuramente un altro anno passerà, quindi arriveremo quasi alla soglia dei tre anni. E tre anni è un periodo molto importante per un bambino Duchenne. Ulteriormente ieri è stato ribadito l'importanza della prevenzione farmacologica sul cuore, quindi di iniziare una terapia al cuore anche se in effetti non si manifestano grossi problemi. Volevo chiedere, è possibile somministrare una terapia farmacologica per il cuore anche sotto somministrazione del farmaco Exxon Skipping? Comprendo benissimo che il tutto potrebbe andare ad inquinare i controlli cardiologici che si fanno abbastanza frequentemente su questi bambini. Però credo che, essendo il cuore un organo importantissimo, chiedevo se è possibile contemporaneamente iniziare una terapia per il cuore. Grazie. Chi vuole rispondere alla domanda? Prego. Microfono per favore. Il microfono è spento. Il microfono? No, o accendere il microfono. Accendere. No, se il microfono è spento non si sente. Sì, adesso la sentiamo, grazie. Grazie della domanda, è una domanda essenziale, chiave dopo le cose che sono state dette ieri sul cuore. La cosa essenziale, ecco, per quel che riguarda gli studi, noi stiamo monitorando tutta una serie di effetti cardiaci, quindi si fanno gli ecocardiogrammi, gli elettrocardiogrammi che vengono confatti proprio per guardare, per controllare la sicurezza del farmaco. Questo è essenziale per dimostrare che il farmaco non ha degli effetti collaterali per quel che riguarda la sicurezza e anche per quel che riguarda l'elettrofisiologia del cuore. Abbiamo visto dei dati ieri per quel che riguarda la fase preclinico, il farmaco arriva nel cuore in misura minima, quindi è un pochino ottimistico a questo punto dire che ci sono dei vantaggi per il cuore, però in una prospettiva più a lungo termine questa è una cosa su cui dobbiamo stare particolarmente attenti. Per quel che riguarda la somministrazione di farmaci che possono essere dati in contemporanea per il cuore mentre il trial clinico è in corso, il trial clinico ha delle regole di inclusione e di esclusione particolarmente severe. Questo per garantire che il ragazzo rientri in questa categoria e che il medico confermi tutto questo, nel senso che come situazione cardiaca comunque possa essere incluso in tutta sicurezza nello studio. Per il discorso sulla prevenzione forse ne dovrebbe parlare meglio col clinico che la segue per vedere se nel caso specifico questo sia possibile. Un paio di commenti, sì forse dovrebbe allontanarsi la cuffia perché entra un fischio. Allora, cerco di rispondere alla prima parte della sua domanda. Annemiche ha detto che anche che in passato si è visto che i livelli assoluti erano comunque minimi nel tessuto cardiaco, comunque c'è un accumulo. Non sappiamo quanto sia necessario perché poi si manifesti un effetto, forse saranno necessari degli studi più a lungo termine per capire quale sia l'impatto sul cuore. Queste misurazioni si fanno naturalmente nel corso del trial però è ancora presto per dirlo dal punto di vista del trial clinico. La cosa più importante è occuparci della salute di suo figlio. I dati chiavi vengono dagli studi su placebo. Si vuole veramente tenere tutto bene sotto controllo per capire effettivamente quali siano gli effetti specifici del farmaco. Quindi io direi, beh anche io le direi, ne parli col suo medico, ne parli col suo medico e poi sarà il suo medico a parlarne con i rappresentanti dello studio. Grazie. Prossima domanda, prego. Per favore un microfono. Prossima domanda, prego. Come dicevano anche loro, il trial non ci dà indicazioni specifiche sul cuore. Allora, tra l'altro la scelta dei farmaci che noi utilizziamo dal punto di vista cardiologico non sono i farmaci che potrebbero anche avere altri effetti sulla funzione più generale. Come in questo momento ci sono degli studi su altre molecole, quindi non dovrebbe interferire. Quindi se i vostri clinici di riferimento, e li conosciamo bene, sappiamo quanto sono bravi, pensano che sia il momento di dare la prevenzione o il trattamento cardiologico, sicuramente lo faranno. Quindi state tranquilli su quello. Ok, grazie. Buongiorno, io avrei qualche domanda per il dottor Kei di Saretta. Non ho ben capito durante la sua presentazione se lei parla di percentuale di distrofina oppure di percentuale di fibre positive alla distrofina. A un certo punto mi sono perso nelle varie slide, tra le due cose. E poi una domanda che non vorrei sembrasse polemica, però non capisco da genitore per quale motivo, pur essendo ad una fase più bassa rispetto a GSK, avete focalizzato la vostra attenzione sugli stessi esoni rispetto all'altra compagnia su un gene così grande, sinceramente mi sembra una perdita di tempo. Sì, bene. Solo per chiarire, percentuali di fibre positive alla distrofina. Quindi 100% normalità, nel nostro studio 47% alle 48 settimane, quindi solo il 47% delle fibre erano positive. La seconda domanda, cioè quello che riguarda la scelta dei vari esoni. Ma come lei immaginerà, e questo è successo ben prima che io iniziassi a lavorare nella società, il 51% è stato scelto perché era quello più prevalente. Era la delezione più prevalente, quindi era quella che avrebbe riguardato il più alto numero di pazienti. Quindi questi studi sono iniziati quasi dieci anni fa e poi in effetti c'erano due società che contemporaneamente stavano lavorando sulle zone 51%. Se noi l'avessimo saputo che ci sarebbe stata questa concorrenza, forse avremmo fatto una scelta diversa, ma non lo sapevamo. La cosa più importante da ricordare comunque è che quello che noi stiamo cercando di fare, e la presenza e la GSK stanno lavorando nella stessa direzione, stiamo cercando di arrivare a una via veloce dal punto di vista proprio regolatorio, cioè in modo da avere il massimo numero di esoni approvati. Quindi vorremmo proprio un'approvazione di cluster, di gruppo, quindi dobbiamo avere un numero minimo di studi clinici in modo da far arrivare sul mercato un farmaco il più rapidamente che si può. Anche per gli altri pazienti, quelli che hanno bisogno di un exon skipping diverso, ecco perché ci stiamo occupando di un'esone che riguarda un alto numero di pazienti. In particolare ora ci sono dei cambiamenti nei regolamenti che potrebbero permetterci un'impostazione un pochino più aggressiva, che potrebbe a questo punto riguardare tutti i pazienti, non soltanto un piccolo numero. Ci sono altre domande? Forse mi ha preceduto, però vorrei capire se anche voi avete in programma per le mutazioni più rare, praticamente mio figlio ha una mutazione unica a tutti gli effetti, quindi vorrei capire un attimino se anche la vostra società ha un programma come la GSK per le mutazioni meno comuni, che non ho visto nella slide che avete presentato. Grazie. Grazie. Buongiorno, la mia domanda è il professor... Cos'è? Sì, una cosa molto simile. Ci sono dei programmi al momento, ci sono dei piani per più di 20 diversi exon skipping, quindi ci sono dei programmi in corso per cercare di coprire il maggior numero possibile di pazienti. Mi scusi, c'è una domanda lì in fondo. Sì, non posso. Niente, volevo chiedere le cellule mesenchimali. Misenchimali, sì, sono cellule che servono per l'antirigetto. Niente, se si potevano usare, invece di usare il farmaco antirigetto, usare queste cellule prese dal paziente, portatore della malattia, mutate e poi messe nell'organismo per non avere l'antirigetto. Grazie. Noi abbiamo pubblicato di recente, insieme a Catherine Woods dell'Università di Oxford, che i mesangioblasti, che da un certo punto di vista sono i cugini delle cellule staminali mesenchimali, che sono i periciti dell'osso, mentre i mesangioblasti sono i periciti del muscolo, hanno le stesse capacità immunosoppressive delle cellule staminali mesenchimali. Purtroppo le sperimentazioni cliniche hanno dimostrato che l'effetto immunosoppressivo delle cellule staminali mesenchimali non è sufficiente per prevenire il rigetto di cellule da donatore, mentre possono svolgere delle funzioni benefiche non sono così potenti da prevenire il rigetto, così come non lo sono i mesangioblasti. Quindi una strategia molto più aggressiva, che però non è giustificata al momento, sarebbe quella eventualmente di sottoporre il paziente a un trapianto di midollo del donatore, dopodiché il sistema immune del paziente diventerebbe quello del donatore e quindi riconoscerebbe come proprie le cellule trapiantate. Ma ovviamente questa è una procedura associata a un rischio clinico molto elevato che non è giustificata al momento. Volevo fare una domanda ad Allen Rea della PTC Therapeutics su Ataluren. Volevo sapere se ha parlato della fase 3, ha detto i criteri di inclusione ma non ha parlato di dove verrà svolta questa ricerca, questa trial. In quali centri clinici? Volevo sapere particolarmente in Italia se ce n'era qualcuno e in quali tempi partirà. Grazie della domanda. Per la sede degli studi, al momento stiamo lavorando con una serie di paesi per vedere quali saranno i siti prescelti, ma nel pianificare questo studio, nel farlo andare avanti il più rapidamente possibile, direi gli stessi paesi che hanno partecipato alla fase 2B, compresa l'Italia e tantissimi altri paesi in Europa, e poi Canada, Stati Uniti, Israele, Australia, tutti questi parteciperanno. Adesso dobbiamo trovare anche un certo numero di pazienti, 220 pazienti, adesso stiamo considerando anche paesi nuovi per poter avere il numero sufficiente di pazienti ai fini della potenza statistica del trial. Buongiorno, senta, volevo sapere, mio figlio ha una delezione delle zone 46-50, se la strategia dell'exoskeeping può essere valida per correggere questa delezione. Chi vuole rispondere? Ma qui c'è l'esperto. Bisogna fare lo skipping del 45 e del 51. Questa è una cosa però che è stata pubblicata tanto tempo fa. Ha risposto alla sua domanda? Volevo sapere se c'erano anche delle sperimentazioni in corso per questo tipo di delezione. Il problema che abbiamo è che tutti stiamo cercando di capire il dosaggio, quindi nel suo caso specifico al momento dovrebbero essere presi due farmaci per fare lo skipping di ambedue gli esoni. Questo certo è possibile, però certo è più rischioso, quindi al momento nessuno lo sta facendo. Forse in futuro qualcuno lo farà, però non sarà uno dei primi gruppi di esoni per cui si farà lo skipping, però man mano che capiremo di più, man mano che raccoglieremo più informazioni, questa possibilità esiste, cioè di lavorare su due in parallelo. C'è qualcun altro che voleva fare una domanda? Vedo una mano lì. Io volevo chiedere al dottor Batta che ho sentito, Jess Kay, per quanto riguarda se era possibile avere in questa sede, mi attendeva una maggiore generosità di informazioni rispetto ai dati dello studio che chiaramente è già in una fase abbastanza avviata, come diceva lui. Mio figlio partecipa, uno dei miei due figli partecipa allo studio sulle zone 51 e da quasi un anno e mezzo è trattato. In questa sede era possibile, così come ha fatto per l'Ether Plissen il dottor Kay, dare qualche informazione almeno sulla quantità di distrofina che hanno rilevato dalle biopsie fatte durante lo studio? Questa era la prima domanda. La seconda, sempre mi chiedevo, per quanto riguarda il GSK, siccome mio figlio ha un fratello, cioè l'altro mio figlio che ha 17 anni e che non è deambulante, ovviamente ha lo stesso tipo di delezione. A quanto ho capito i dati dello studio verranno resi noti verso settembre. Volevo capire una tempistica, perché per spiegare soprattutto al fratello più grande, quando potrebbe essere trattato con un farmaco che pare effettivamente dare dei risultati, considerato che il fratello viene trattato e lui no, anche un po' dal punto di vista, tra virgolette, etico, se è pensabile che vi sia un percorso più o meno celere per arrivare, visto che, ripeto, potremmo arrivare al paradosso per cui c'è un farmaco che funziona, a un figlio nel mio caso viene dato e a un altro no. Non so in questo senso se vi siete, tra virgolette, posti il problema, oppure se c'è già una tempistica per tutti, insomma, per andare in produzione del farmaco, il che risolverebbe sicuramente il problema, insomma, una tempistica celere, non si fa nemmeno porre il problema. Grazie. Innanzitutto, grazie. Grazie a lei e grazie a suo figlio per il fatto anche solo di partecipare a questo studio, per quel che riguarda i tempi. Sui dati, io ho fatto vedere uno studio di fase 2 che è finito solo l'anno scorso in Europa, quindi stiamo solo preparando i risultati al momento, quindi questi risultati saranno pubblicati e saranno poi presentati al prossimo congresso, quindi questi risultati saranno resi noti e a quel punto ci saranno i dati clinici e anche la possibilità di includere dei dati appunto sulla distrofina. Per quel che riguarda, spero che questo risponda alla prima parte della sua domanda, per quanto riguarda il suo secondo figlio, no, figlio, 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 suo figlio, suo figlio maggiore che non è deambulante, per la popolazione non deambulante, beh, questo fa parte del nostro progetto di sviluppo clinico, abbiamo fatto uno studio, anche quello è stato completato alla fine dell'anno scorso, e riguarda il dosaggio, dobbiamo capire qual è il dosaggio massimo che possiamo utilizzare. Adesso stiamo pensando al disegno di uno studio clinico, però dobbiamo prima imparare tanto, il più possibile dagli studi sui ragazzi deambulanti, perché lì abbiamo già un buon livello di massa muscolare, e così possiamo capire meglio che cosa succede a livello clinico per la distrofina, e poi quello che abbiamo imparato lì lo possiamo applicare alla popolazione non deambulante. Dobbiamo prima ottimizzare quello studio e non sovraccaricare gli altri ragazzi a livello di dose. Quindi prima dobbiamo aspettare i risultati e apprendere qualcosa dai risultati che abbiamo sulla popolazione deambulante ancora. Non so se ho risposto alla sua domanda o c'è qualcosa che non ho capito. Se non deambulanti, hai visto i muscoli già compromessi e anche il muscolo cardiaco che incomincia a avere in questo periodo qualche problemuccio, quali sono gli effetti positivi che voi vi aspettate dalla tecnica dell'esoskipping? Avrei una seconda domanda che riguarda invece gli eventuali nuovi progetti trial sugli altri esoni. Se questi possono essere, si possa pensare che abbiano dei tempi più ridotti rispetto al lungo periodo dei trial, giustificato chiaramente, proprio sfruttando magari i trial che hanno già raggiunto una certa validità e sfruttare i risultati da questi ottenuti per accorciare i tempi dei nuovi eventuali studi su altre esoni. Grazie. Posso provare a rispondere io almeno per la parte relativa ai non ambulanti e poi magari Giles Campion potrà farlo per gli ambulanti. Allora, riguardo appunto al gruppo non ambulante, lo studio che abbiamo condotto si è riferito alla farmacocinetica e anche agli aspetti relativi alla sicurezza dei dosaggi. Abbiamo cercato di capire quali fossero la dose massima possibile per ragazzi non ambulanti. Quindi non ci siamo tanto occupati dei benefici, dell'aspetto dell'efficacia, diciamo. e però questi dati ci hanno dato una dose massima di 6 mg pro chilo e penso che questo potrà essere utile per gli studi futuri, evidentemente. Poi ieri abbiamo sentito parlare di alcuni degli end point dei ragazzi non ambulanti. C'è della potenzialità, diciamo. È chiaro che al momento ci sono dei test convalidati per quello che riguarda naturalmente la popolazione ambulante. Mi riferisco al test dei sei minuti. Quindi al momento c'è parecchio che viene fatto anche per i non ambulanti. Ancora una volta dati che potranno aiutarci a pianificare studi futuri su questo tipo di popolazione. Giles, a te la parola. Per quello che riguarda la durata. Ecco, ho cercato di dire nella mia relazione che di fatto noi stiamo andando proprio in questa direzione. Cioè stiamo utilizzando il massimo dell'informazione che possiamo avere per poter raggiungere programmi di sviluppo un po' più efficienti, diciamo. E naturalmente per far questo abbiamo bisogno dell'approvazione da parte delle autorità perché possiamo preparare tutta una serie di composti. Ma questo è un fatto assolutamente innovativo. Quindi su questo abbiamo bisogno di dialogare con le autorità che naturalmente devono essere fornite e di tutte le informazioni che noi siamo in grado di fornire loro. Bene, grazie. Allora tempo soltanto per un'altra domanda. C'è qualcuno? Sì, prego. Ho una domanda per tutti. Finora abbiamo parlato soprattutto della Duchenne. Siamo piuttosto speranzosi, direi. Ma la mia domanda riguarda questa volta la Becker. Ecco, per esempio, sappiamo che lavorare per la Duchenne Collection Skipping significa trasformare i Duchenne in Becker. Ma per i Becker al momento che cosa si fa? Al momento sembra che i ragazzi Becker siano solo un esempio per voi per procedere con i Duchenne. Grazie per quello che riguarda la PTC. Lo studio di fase 2B riguarda un tipo particolare di pazienti che appartenevano a un certo fenotipo. Quindi si può discutere se si tratti di ragazzi Becker particolarmente severi o meno perché si tratta di uno spettro patologico che va dalla Duchenne, alla Duchenne Intermedia, alla Becker. Ecco, questo ci dice che naturalmente ci sono molte discussioni in questo senso. Però penso che lo scopo finale sia quello di arrivare ad un farmaco che sia disponibile per questi pazienti soprattutto direi per una popolazione il più ampia possibile di questi pazienti. Certo, noi parliamo di questo con le autorità. Cerchiamo di portare avanti proprio questo discorso cioè cercare di rendere disponibili questi farmaci ai ragazzi più piccoli possibili e per un tempo più lungo possibile. Ecco, sicuramente terapia relativa alla distrofina può andar bene per i gravi Duchenne ma anche dal punto di vista fenotipico per i ragazzi Becker che hanno quindi una situazione meno grave. Qualcun altro di altre aziende vuol parlare? La domanda è stata fatta a tutti. Io penso che lo scopo dell'exon skipping sia cercare di produrre una forma meno grave della patologia simile alla Becker quindi l'exon skipping allo stato attuale non può essere utilizzato così come per la Becker però certo a noi interessa considerare la possibilità di altre terapie che possono essere utilizzate per tutte le forme di Duchenne e probabilmente si tratterà di qualcosa di un po' diverso però rispetto all'exon skipping. Grazie Allora, c'è un'altra domanda Allora, veramente questa è l'ultimissima domanda Un ragazzo che ha una direzione dal 3 al 6 ancora deambula volevo fare una domanda al professor Cossu per quanto riguarda i tempi dei trial che stanno facendo con le staminali Grazie Noi pensiamo di completare l'analisi dei risultati di questo studio per l'autunno di questo anno quale sarà il prossimo passo però dipenderà anche dai risultati che dobbiamo ancora raccogliere e con l'aiuto dell'advisory board dovremo stabilire quale strategia adottare per il futuro quindi al momento non sono in grado di rispondere alla domanda ci sono tante possibilità ma è forse prematuro parlarne adesso perché poi potrebbe verificarsi il caso che una valutazione più accurata le renda non fattibili quindi è inutile stare qui noi abbiamo delle idee su come muoverci ma queste idee saranno come dire più solide quando ci saremo confrontati con l'advisory board e quando avremo tutti i dati sicuramente nel prossimo anno non inizieremo alcun nuovo studio questo è chiaro grazie a tutti thank you very much Grazie a tutti.